16 per L, livello 23, e quindi se ne avremo, siamo ormai su due tavoli, vedo con 16 giocatori Ancora in trovasse, con un cipri dell'unità statunitense, un tavolo con Benelli Ascari, qui abbiamo Gregory Genovense, di Lauro, e Valentino che lo abbia messo in cipro, e Pernas, a fianco al giocatore romeno. Grazie a tutti.